Taglio dell'erba, rimozione dei rifiuti nelle aree private poste all'interno dei centri abitati, capoluogo e frazioni e in prossimità di civili abitazioni. E' quando prevede la nuova ordinanza sulla pulizia delle aree verdi, firmata ieri da sindaco di Pratola Peligni, Antonella Di Nino, che ordina che tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree verdi urbane incolte, o i proprietari di casa e gli amministratori di stabili con annesse area verde, dovranno provvedere ad effettuare relativi interventi di pulizia mantenendo per tutto il periodo estivo, a partire dalla data odierna al 30 settembre 2018, condizioni tali da non accrescere il pericolo per l'incolumità, l'igiene pubblica e il pericolo di incendi. In caso di inosservanza dell'ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo variabile da 25 a 500 euro. I lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio, con addebito delle spese a carico dell'inadempienti, qualora gli obbligati non provvedano entro il termine indicato. Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori, sarà direttamente risarcido dall'inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute dall'amministrazione. Sempre ieri è stato pubblicato l'avviso per l'affidamento delle aree verdi di Pratola. In mappa tutte le aree disponibili ad essere adottate dai singoli cittadini, le associazioni, le aziende, gli enti, chiunque voglia farne richiesta. Particolare attenzione starà data alla sostenibilità ambientale, vietando l'utilizzo di erbicidi, insetticidi, tramite l'invito a prediligere varietà autoctone. Nelle ultime settimane interviene l'assessore comunale Fabiana Donadei. Abbiamo messo in campo alcune iniziative volte alla riduzione delle incurie e del degrado, da progetti di riqualificazione urbana all'avviso di adozione delle aree di verde pubblico. Ci auguriamo che la cittadinanza colga l'occasione per rendersi partecipe di un processo di riqualificazione urbana al quale abbiamo dato avvio.